Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Icaro Tg, vediamo subito insieme le notizie principali di oggi. Violenta rapina nella notte a Covignano, presa di mira la famiglia di un orefice, picchiati e rapinati da una banda di albanesi, 170.000 euro il bottino. Presentato il ventesimo rapporto sull'economia provinciale, un 2013 con tante ombre e poche luci, ma ci sono alcune imprese che lasciano sperare per il futuro. Nuova maxi antenna sul colle di Covignano, via libera dalla conferenza dei servizi, nonostante le proteste dei residenti. Calcio, a Rimini lancio di uova dei tifosi contro il pullman della squadra, reduce da un pari allo scadere, a scatenare la reazione un gestaccio di Cesca, clamoroso a Sant'Arcangelo, il derby va al Bellaria. E apriamo con la cronaca, ore di paura nella notte per una famiglia residente in una villa di via Raticosa a Covignano, siamo a Rimini. Una banda di albanesi ha preso in ostaggio la famiglia di un noto orefice in pensione, sono stati legati e picchiati il bottino 170.000 euro in contanti e gioielli. Un commando di quattro persone armate di pistola ha fatto irruzione nel cuore della notte intorno alle due in una villa in via Raticosa a Covignano. Il padrone di casa, un noto orefice in pensione, stava guardando la tv. Uno dei malviventi lo ha chiuso a chiave nella sua stanza al piano di sopra, mentre gli altri tre si occupavano della figlia, 39enne, e del suo compagno, quarantenne, sorpresi nel sonno. Sono stati legati e picchiati finché si sono convinti ad aprire la cassaforte. I rapinatori hanno portato via contanti e gioielli per circa 170.000 euro. La banda sarebbe entrata da una finestra al piano terra. Hanno tagliato le inferriate, poi hanno spaccato il vetro. Il 72enne, alle quattro, ha liberato la figlia e il compagno, dando l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto il personale della squadra mobile, della scientifica e i sanitari del 118. Le vittime hanno detto che i malviventi avevano il volto coperto da un passamontagna e due erano armati di pistola. La polizia li sta cercando. Quattro arresti per traffico di sostanze stupefacenti tra Milano e Rimini sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza milanese. Tra gli arrestati, probabilmente al centro del traffico illecito, un noto pluri pregiudicato di origine calabrese, ma da tempo radicato sul territorio lombardo, già agli arresti domiciliari. L'uomo era in possesso di una sorta di contabilità occulta, ora sequestrata dagli uomini della finanza, da cui è stato possibile ricostruire un giro d'affari tra acquisto e vendita per oltre 42 kg di droga. I carabinieri di Riccione hanno arrestato i due mandanti dell'aggressione che avvenne un anno fa ai danni di un ristoratore residente a Monte Colombo. Si tratta di uno dei suoi soci, un ariminese di 24 anni e di un 35enne di Latina che ha ingaggiato i sicari. Quasi un anno fa, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, fu picchiato selvaggiamente con due mazze di ferro nel cortile di casa a Monte Colombo, mentre rincasava a notte fonda. Gli portarono via la borsa con l'incasso della settimana nel suo ristorante nella zona nord di Rimini, 6.500 euro, oltre a carte di credito, un cellulare e quattro carnet di assegni. La vittima finì in pronto soccorso con 40 giorni di prognosi. Stamattina, all'alba, i carabinieri di Riccioni hanno arrestato un 24enne riminese, socio dell'uomo e organizzatore del pestaggio, e un 35enne di Latina, residente nelle Marche a Serra dei Conti, che ha ingaggiato i due sicari, probabilmente due persone dell'est Europa, per il lavoro sporco. Un elemento fondamentale, fornito dalla stessa vittima, ha permesso la cattura dei due. La sera dell'aggressione, a differenza di come faceva di solito, il ristoratore aveva portato con sé l'incasso. Solo il socio, il 24enne riminese, lo aveva visto. La pista da seguire si è delineata poco a poco, dalle testimonianze assunte dai carabinieri emerse che i rapporti tra i due erano difficili. Probabilmente per recuperare gli scarsi rapporti che avevano sul luogo di lavoro ha pensato di vendicarsi in questo modo. Sono dei fenomeni delicati che noi cerchiamo sempre di attenzionare e che fortunatamente stanno dando anche i risultati sperati dal punto di vista investigativo. Apriamo adesso una pagina dedicata all'economia. È stato infatti presentato nel pomeriggio nell'aula magna dell'Università di Rimini il ventesimo rapporto sull'economia della provincia. I dati elaborati dall'Ufficio Studi della Camera di Commercio testimoniano l'un 2013 di piena crisi per il territorio. Non avviserà sorprese positive il rapporto 2013 sull'economia provinciale. Il mercato del lavoro soffre. I lavoratori avviati sono stati 57.558, meno 9,4%. Gli avviamenti 93.370, meno 12,5. Flessioni più elevate dal 2009. Quasi il 51% degli avviamenti è nel settore turistico, con assunzioni prevalentemente stagionali e contratti a tempo determinato o a intermittenza. C'è poco da sorridere anche alla voce cassa integrazione. La diminuzione dell'1,6% delle ore autorizzate va infatti interpretato. Il calo più consistente riguarda la cassa ordinaria, alla quale però molte imprese non possono più accedere. Benché in calo resta elevata quella straordinaria, cresce invece la cassa inderoga. Con 5,9 milioni di ore il settore più in difficoltà è quello industriale, con meccanica e legno in testa. Male anche il commercio, con oltre 1,6 milioni di ore, e l'edilizia con oltre 1,4. Operai, più 6%, e impiegati, meno 14,7, i più colpiti. Da chi un lavoro ce l'ha, a chi purtroppo si trova costretto a cercarne un altro. Nelle liste di mobilità figurano 729 persone, più 53%, con una maggioranza di uomini italiani e over 45. Oltre il 70% nel 2013 non ha più avuto avviamenti. Visti i dati, non stupisce allora che il tasso di disoccupazione sia passato dal 9,8% del 2012 all'11,5% dello scorso anno. Grande il divario di genere, con gli uomini all'8,3% e le donne al 15,6%. Preoccupante anche la situazione dei giovani. Tra i 15 e i 24 anni è del 30% il tasso di disoccupazione. Il 2013 conferma poi le difficoltà d'accesso al credito. Meno 3% a fine dicembre per gli impieghi e a risentirne maggiormente sono le imprese. Aumentano i crediti in sofferenza, più 41%. Uno spiraglio arriva dall'export, più 0,3. Stabile invece l'import. Cala il numero di imprese attive, 35.521 contro le 35.781 del 2012. Oltre la metà sono individuali. Dando uno sguardo alla congiuntura, il 2013 evidenzia un settore manifatturiero con produzione, fatturate e ordinativi in calo e quello turistico col segno meno sia alla voce arrivi che presenze. E il futuro? Le previsioni indicano una timida ripresa per il prossimo triennio. Viste le difficoltà, difficile sbilanciarsi oltre. Innovazione, risorse umane, un occhio all'estero. Sono queste le armi messe in campo da chi nonostante la crisi riesce ad ottenere risultati positivi. La testimonianza di 12 imprenditori del territorio è stata la novità del rapporto di quest'anno che non si è voluto fermare ai soli numeri. Sicuramente dà speranza alla capacità di Rimini, che è ancora molto forte anche in un confronto regionale, di essere competitivo sui mercati internazionali, sia per quanto riguarda l'industria sia per il turismo. Ad esempio i turisti esteri a Rimini sono ancora cresciuti anche in un anno, oggettivamente molto difficile. Ma io ho visto dei dati consuntivi che ispirano tristezza, nel senso che l'andamento del 2013 è stato un andamento negativo sotto tutti i punti di vista. L'occupazione, il fatturato, l'export, le iniziative in generale. Però ho anche letto, certo che sono previsioni, le previsioni per l'anno corrente e mi sembra che siano positive, in larga parte positive, tutte positive. Abbiamo tenuto il passo bene, il passo nel senso che non ci siamo resi alla crisi, abbiamo continuato ad intraprendere, abbiamo continuato a sperare, abbiamo continuato a immaginare dei tempi migliori, quindi abbiamo cercato di sopravvivere. Pur permanente, un quadro difficile, possiamo dire, meno complesso e arduo di quello del 2012 e del 2011, ma pur sempre un quadro che manifesta elementi di attenzione su cui va destata la stessa da parte di tutte le istituzioni. È vero che ci sono anche elementi di novità sia sotto il profilo minimo dell'occupazione come tendenza per il futuro, sia di aziende che attraverso valorizzazione, creazione di nuovi prodotti, ricerca e internazionalizzazione stanno andando avanti. Continuiamo a parlare di lavoro perché prosegue la difficoltà del settore metalmeccanico in provincia dove resta molto elevato l'uso di ammortizzatori sociali. A rendere noti i dati è la FIM CISL Romagna in vista dell'Assemblea Nazionale della Categoria che si terrà l'8 aprile a Reggio Emilia. In cinque anni in provincia si sono perso 85 imprese e 1.500 posti di lavoro e la cassa integrazione aumenta. Troppo timidi i segnali di ripresa per scalfire al momento almeno una crisi radicata troppo in profondità. Nel settore metalmeccanico dal 2008 al 2013 in provincia di Rimini sono scomparse 85 imprese, il 7% del totale. Si tratta del calo più contenuto in Romagna visto il meno 14% di Forlice Sena e il meno 12% di Ravenna. Ma non c'è da esultare visto che in termini di addetti è proprio Rimini a pagare il dazio maggiore. 1.500 in meno in appena cinque anni vale a dire il 22% del totale e anche i dati sulla cassa integrazione preoccupano. Nel 2013 sono state 127.913 le ore richieste di cassa ordinaria, 1.318.000 per quella straordinaria e poco più di un milione per quella in deroga. Un totale di oltre 2.500.000 ore in aumento rispetto a 2012-2011. La FIM CISL segnala in particolare il raddoppio in un anno di quella in deroga che ha permesso a molte imprese che non potrebbero accedere agli altri ammortizzatori di mantenere i posti di lavoro. Sul futuro però regna l'incertezza. Vista anche l'indecisione regionale e governativa su questo strumento tante aziende cominciano a dire basta io non reggo più 5-6 anni che ho utilizzato questo strumento adesso ho bisogno di tagliare il personale e per noi questo è un grande grande problema. Il primo periodo di ammortizzatore in deroga scadeva oggi. Non sappiamo come proseguire. Per la cassa in deroga manca l'appello al momento un miliardo di euro intanto dal primo trimestre 2014 arriva qualche spiraglio ma è ancora troppo presto per parlare di ripresa. Lo stesso segnale lo abbiamo avuto nel 2011 all'inizio del 2011 e poi nel secondo trimestre la situazione è precipitata nuovamente. Io dico la crisi sta finendo nel momento in cui non ho più i lavoratori che mi chiamano perché lavorano poco, perché l'incito non paga, perché il datore di lavoro li licenzia, perché fanno molte ore di cassa integrazione. Quando queste persone diranno adesso sto lavorando, ho trovato un altro lavoro, allora posso dire la crisi è finita. A oggi non lo dico. Rimini con 3,3 milioni di euro è stato nel 2013 il quarto comune in regione per evasione accertata nell'ambito della collaborazione tra agenzia delle entrate e municipi. Il record di regione va a Reggio Emilia 7,5 milioni, davanti a Bologna 5,2 e Modena 3,8. Il maggior numero di segnalazioni da parte dei comuni arrivano dall'ambito urbanistica e territorio. A Rimini da questa voce sono entrati lo scorso anno 1,4 milioni. Per le segnalazioni inviate nel triennio 2012-2014 la percentuale del riscosso che spetta al comune è del 100%. Il progetto per l'installazione di tre nuove antenne per le telecomunicazioni sul colle di San Fortunato ha ricevuto il nulla ostra alla conferenza dei servizi in comune. Non sono dunque servite le proteste dei residenti con tanto di raccolta firme, istanze e di fida al comune. L'ok al ripetitore, che ricordiamo sarà alto oltre 50 metri, è arrivato in base ad una regolamentazione regionale secondo cui quell'area era già stata individuata a questo scopo. Oltre alla mancanza di contraddittorio, le principali preoccupazioni dei residenti riguardano la salute e il paesaggio. Il timore è infatti quello di un pericolo inquinamento, sia elettromagnetico con conseguenze sulla salute dei residenti e dei lavoratori delle aziende che si trovano sul posto. Alle sei antenne già montate, come detto, se ne aggiungerebbero altre tre. Per fermare l'installazione non sono comunque escluse nei prossimi giorni nuove azioni da parte del Comitato dei Cittadini e del loro avvocato di Roma, Maria Cristina Tavano. Ultimo appuntamento ieri in Duomo con gli incontri con i Cresimandi e le loro famiglie. In tre domeniche sono stati incontrati 2.500 ragazzi e diverse migliaia di genitori. Ieri i protagonisti sono state le parrocchie del vicariato litorale nord di Savignano e Sant'Arcangelo. Perché non fare un minuto di silenzio al giorno, un minuto, guardando una bella immagine di Gesù, come una sorta di messaggino che possiamo mandare a Gesù e Lui non vi deluderà, vi risponderà non con un messaggino sullo smartphone, sul cellulare, ma parlerà al vostro cuore, siatene sicuri. Con questo invito il Vescovo Francesco si è rivolto ieri agli 800 ragazzi che si sono ritrovati in Duomo con i loro genitori per l'ultimo degli incontri con i Cresimandi, che ha coinvolti i vicariati del litorale nord Sant'Arcangelo e Savignano. A portare testimonianza di un incontro che cambia la vita, Marco, che ha dovuto fare i conti con una grave malattia, Giorgio, che ha rischiato di rimanere in carrozzina dopo un lancio con il paracadute, Caterina, che nella semplicità dell'incontro con i bambini e con gli anziani, ha riscoperto la bellezza di un cammino di fede. Ho spazzato via proprio l'idea che avevo, profondamente sbagliata, di un Dio giudice, di un Dio che è severo, che al primo sgarro ti punisce e l'ha rimpiazzata invece con l'immagine di un Dio che è padre, che anzi non solo non vuole la sofferenza dei propri figli, ma soffre nel vedere i propri figli che stanno male. Ho analizzato tutte le certezze e sicurezze per le quali avevo vissuto, fisico, emozioni, passioni, sensazioni, sentimenti, ricchezza, ed ho capito che non veniva più alcuna a cui potevo appoggiarmi. Solo allora, svuotato di tutto, ho iniziato a guardare quel crocifisso che era appeso in fondo ai piedi dell'ospedale. Sembra che ci venga chiesto di dare qualcosa, quindi del tempo, dell'impegno o di rinunciare a qualcosa e invece poi ci si accorge sempre che quello che ci viene chiesto è di ricevere. E l'incontro di ieri sera sarà proposto su Icaro TV lunedì 7 aprile alle 21. Penultimo appuntamento questa sera alle 21 alla Chiesa di Sant'Agostino invece con le meditazioni quaresimali, l'itinerario promosso dalla Diocesi sul tema Eucarestia, nostra vita. La riflessione sarà affidata all'abbadessa di Viboldone, Maria Ignazia Angelini. L'incontro sarà trasmesso su newsrimini.tv, canale 614, mercoledì alle 21 e domenica alle 14.30. Siamo adesso alle notizie di tutto in 100 secondi. Ieri mattina la polizia è intervenuta in una clinica privata di Rimini per una lite fra una paziente e un uomo che si era avvicinato con l'intento di chiederle l'elemosina. A suo diniego l'uomo l'ha colpita con due calci, fortunatamente senza gravi conseguenze, danneggiandole il cellulare. L'aggressore si è dileguato. Dopo la fase sperimentale è stata prorogata fino al 10 luglio, termine presunto dei lavori per il ponte di Via Coletti, l'apertura del varco di piazza Ferrari a Rimini. Nel tentativo di fluidificare il traffico, la polizia municipale ha deciso anche di revocare il segnale di dare la precedenza, istituito all'incrocio tra le vie Sacramora e 25 marzo. La terza commissione consigliare ha dato il via libera alla variante al PRG per il nuovo tempio crematorio al cimitero urbano di Rimini, che sorgerà al posto della struttura operativa di Antea. Ci sarà anche la nuova sala del commiato. In estate l'avvio dei lavori, fine prevista entro l'estate 2015. Nel fine settimana la polizia municipale di Rimini ha controllato 350 veicoli. 7 sono stati sequestrati e sanzionati perché senza assicurazione. A 10 conducenti è stata contestata l'omessa revisione, mentre 5 non avevano la cintura. 4 le multe per eccesso di velocità, 3 per l'uso del cellulare. Sono stati rilevati 15 incidenti. Con le sue 74.684 persone, la fortezza di San Leo è stata nel 2013 il monumento più visitato dell'Emilia Romagna, dopo Santa Pollinare in classe a Ravenna. Da questa affluenza sono entrati nelle casse leontine oltre 470.000 euro, il dato più alto in regione. Numeri che, secondo l'assessore provinciale al turismo Galli, testimoniano le potenzialità turistiche dell'entroterra. E siamo al calcio. Un ambiente teso ieri sera al ritorno del Rimini dalla trasferta a Porto Tolle. Un gruppo di tifosi biancorossi ha scagliato un centinaio di uova all'indirizzo del pulman ed un supporter con una manata ha provocato la rottura di un vetro laterale del mezzo. A scatenare la reazione degli ultra, un gestaccio dell'attaccante biancorosso Cesca a fine partita. Incredibile invece al Mazzola, il Bellaria già retrocesso, vince il derby col Sant'Arcangelo interrompendo a nove la striscia di sconfitte. Il servizio di Roberto Bonfantini. A Porto Tolle minuti di recupero tornano la zona Rimini, anche se il pari è un brodino caldo per i biancorossi, la cui classifica è sempre più preoccupante. Adesso sono quintultimi da soli, con 37 punti e le giornate rimaste sono appena 4. Osio schierisui con un inedito 3-5-2, con Nicastro e Radoi in avanti. Falle non è neanche tra i convocati. Al secondo i padroni di casa chiedono un rigore per un tocco di mano di Aia su tiro di Pettarine. Il signore formato di Benevento fa proseguire. Al sedicesimo Rimini è già sotto. L'azione è viziata in partenza da una spinta di Segato ai danni di Spinosa, che perde palla. Lungobardi lavora il pallone prima di servire Laurenti. Kesla Lomeggen è piena area tra le statuine biancorosse prima di superare di giustezza Scotti. La reazione della truppa di Osio porta la traversa di Nigro su punizione al 31esimo. Per il centrocampista Campano è il secondo legno di fila. Ma l'opportunità più ghiotta per impattare capita alla mezz'ora della ripresa sui piedi di Cesca. L'assist di Brighi al bacio, la battuta dell'ex Bellaria da dimenticare. I biancorossi devono soffrire così fino al 47esimo. Angolo di Aia, la difesa rinvia. Brighi per Cesca, che mette al centro, dove sono appostati ben tre giocatori ospiti. Aia in sacca l'1-1 finale. Clamoroso al Mazzola. È il già retrocesso Bellaria a vincere il derby con il Sant'Arcangelo. I ragazzi di Fanesi ritrovano la vittoria, che mancava da 18 turni, e stoppano 9 la striscia di sconfitte consecutive. Ora i punti in classifica sono 15. Il Sant'Arcangelo è quinto insieme alla Spal a quota 48, con tre lunghezze di vantaggio sulla nona. Al 44esimo i biancazzurri si portano in vantaggio. Il zillo soffia palla a Beccaro. La sua verticalizzazione permette a Grandi di infilarsi tra i centrali di casa e superare con un appregevole lob Nardi. Al quarto d'ora della ripresa, la battuta di Beccaro, dopo una sponda di D'Antoni, viene deviata da Dedeo sulla traversa. Al minuto 26 i geloblu pareggiano. L'angolo di Pasi è prolungato da Graziani. Garaffoni rimette in mezzo per il tapine di Obenge. Tutto di testa. Ma al quarantesimo è ancora a grandi gol. Il centravanti sfrutta l'accelerazione di zillo a sinistra, spedendo il pallone nel sette. Doppietta personale per il biancazzurro, erete che si rivelerà decisiva. Si chiude in dieci contro nove, per le espulsioni, tutte per doppia munizione, del biancazzurro Beghetto al 34esimo della ripresa, del Clementino Urso tre minuti dopo e del bellariese Olivera in pieno recupero. Finisce 2-1 per il Bellaria. E questa sera, come di consueto, dalle 21.05 su Icaro Sport, canale 211 e Radio Icaro, l'appuntamento con Calcio.basket. Tra gli ospiti in studio è il centrocampista del Rimini, Lorenzo De Geri, l'attaccante del Sant'Arcangelo Ivan Graziani e l'attaccante del Bellaria, Nicolas Izzillo. Questa era la nostra ultima notizia e vi lascio al meteo. Buon proseguimento di serata. Buon proseguimento di serata.